ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un altro episodio dedicato ai video delle vostre collezioni cioè dei vostri orologi in soldoni quello che ci interessa a noi sono gli orologi ma anche come cercate di proseguire in questo percorso tortuoso che altro non è che possedere gli orologi o collezionare gli orologi potremmo anche dire così vi ricordo di fare i video in orizzontale e un massimo di sette minuti siate umani non mandate dei video lunghi 9 10 11 minuti che poi con i miei commenti diventano di 15 e per un solo soggetto sono tantissimi non si rischia di annoiare anche il pubblico oltre che mi detto questo poi volevo ricordarvi anche una cosa simpatica cioè il mio account instagram seguitemi su instagram perché non lo dico mai non faccio mai pubblicità al mio account perché non non mi interessa fino a certo punto ma una volta ogni tanto lo posso anche dire vi lascio il link qua in descrizione del mio account instagram dove potete vedere gli orologi che vedete sui video nei miei video i miei orologi quelli che andrò a recensire insomma è sempre gli orologi sempre di quello si parla non è che vedete tette e culi vedete sempre orologi però quello ci piace a noi anche altro è però il momento è gli orologi questo poi dopo ogni cosa a suo tempo ora detto questo vi ricordo niente vi mostro l'orologio del giorno cavolaci oggi è questo simpaticissimo veri watch octopus 38 mm di diametro cassa uno skin diver vecchi tempi ma veri watch è un marchio che era scomparso è stato riportato la luce da un imprenditore italiano con questo modello qua più un altro simile stessa cassa cambia quadrante le sfere due belli orologini 38 mm forse per me siamo al limite inferiore io preferisco quelli da 40 però anche così non è malaccio dai ha il suo perché è abbastanza originale come orologio adesso stop con i discorsi inutili e andiamo a vedere i video tutti quanti insieme dai ciao davide ciao amici del canale che bello io sono sibilla e questa qui è la mia collezione di orologi partiamo subito con un swatch di un bel quarzone timing off anno 1990 di era girevole di cui non sappiamo l'uso però lo chiameremo l'orologio morsicato forse un giorno tornerà al polso intanto lì dai che al suo perché anche così ma si arcobaleno dai poi il moeris del nonno scusa nonno ci ho messo il cinturino nato anche se dalla guerra non volevi mai parlare comunque ci sta bene e una volta era cromato ormai come si può ben vedere la cromatura è andata calipo 13 non versione excellence però non so a me piace quindi ogni tanto l'ho porto ma bello è bello sì sì poi il prossimo orologio devo dire che sono stata influenzata dal canale e quindi ovviamente è bromaster no scherzo un secco 5 del 1993 che ho semplicemente nominato all'amico orologiaio e prontamente l'ha tirato fuori dal dal suo magazzino è molto bello ha il dataio in tre lingue e paradossalmente ho ricevuto un sacco di complimenti più per questo che per tanto orologio che ho indossato ma ci sta evidentemente piace un sacco e certo bello poi poi un orologio che ho acquistato e mai messo ma che mi piaceva molto il quadrante questo sicura anni 60 placcato movimento lasciamo perdere però insomma diciamo che da donna è carino con questo con questo fiore che si espande avevo un vintage molto con il quadrante molto simile a questo con la lavorazione così tipo a fiore no a atomic atomic si chiamava marchio sconosciutissimo veramente e l'avevo preso perché c'era un tipo che lo vendeva su facebook che ne aveva un tot che erano rimasti come fondo di magazzino in una cassaforte figurati bello orologino bello orologino a volte si trovano degli orologi vintage anche di marchi sconosciuti che sono carini che ti danno soddisfazione specie se si spende poco è chiaramente poi con i vintage non è che ci si può fare salti mortali andare al mare no piscina lavori manuali eccetera eccetera vanno tenuti con cura perché sono anzianotti hai capito andiamo avanti forse un giorno lo porterò chi lo sa chi lo sa chi lo sa eccolo qua bello bello prossimo orologio denominato giramondo ed è semplice capire perché calibro età è abbastanza piccolo però fa la sua porca figura è molto bello la doppia griglia girevole interna e si illumina è bello me lo dico da sola sì è bello però piccolino cavoli quelle tre corone lì così appiccicate una all'altra fanno quasi senso veramente messe vicine chiaramente è di piccole dimensioni l'orologio non c'è spazio vabbè dai diciamo che è bello proprio perché ti chiami Sibilla lo dicono anche gli altri eccolo qua bello prossimo orologio che porto è questo rado balboa deluxe con quadrante in pietra occhio di tigre calibro età 28-24 la cassa è trattata in carburo di tungsteno come l'omega anakin qua c'è il suo fondello bello al sole questo qui devo dire che rende proprio ecco qua se un po' si vede la venatura della pietra classicone anni 70 sì questa è la cifra stilistica o il golden horse sono orologi abbastanza standard pure essendo bellissimi no perché mi piacciono tra l'altro sono i miei preferiti però i materiali e le forme sono proprio fanno parte della storia cultura di rado eh però decisamente bello anche se anche da donna direi non è troppo invasivo se si capisce un po' vabbè vabbè c'è una foto per ogni brava brava bello poi poi è bello un orologio che ha ormai sequestrato perché mi ci trovo benissimo quindi un ebel 1911 junior movimento automatico frederick piguet 951 comodissimo il bracciale ebel devo dire che io ho il top non si rende neanche conto di averlo addosso un vero top assoluto ecco adesso è un po' maglio sì è un vero top assoluto te lo siete anche a te perché? perché io lì per lì quando l'hai fatto vedere io ho pensato che fosse un orologio a quarzo perché? perché era molto sottile molto sottile io non sono onnisciente non so ogni modello di ebel che è uscito cosa cavolo e poi mi dici che è automatico sottile così è veramente una roba notevole si merita il top a me ebel piacciono peccato che il macchio insomma non non abbia una proprietà così forte da poter poi stiamo parlando dell'Italia perché in certe parti dell'est del mondo ebel va a scheggia in Italia è un po' indietro non fanno tanto marketing non fanno magari non importano nemmeno i modelli ma la maggior parte dei modelli no è un po' strana la storia di ebel qua in Italia però quando vedi questi orologi qua che sono riconoscibili è un ebel quando vedi questa questa lunetta con le viti sopra è un ebel poi sottile così dà paura bravo bello si vede lo spessore 7 mm molto molto bello questo quindi non so se lo dirò indietro a chi me l'ha gentilmente prestato ah no penultimo orologio che ovviamente è il pezzo forte della mia collezione è questo longin di oro rosa per cui ho avuto un vero e proprio colpo di fulmine che qualcuno poi ha prontamente realizzato calibro 2.90 quant'altro è singer fondello con logo smaltato mamma mia e questo è è stupendo bello si cioè quando l'ho visto l'ho subito desiderato e e non so come qualcuno è riuscito a tolvarlo non so come basta tirare fuori soldi ultimo della collezione ma primo perché è stato assolutamente il primo che ho comprato è questo orologio che ho al polso questo gercertina bulsai calibro 19.10 indici in radio piccolino ha un orologio ovviamente femminile perché è molto piccolo infatti lo chiamo anche il piccolino fondo a vite e controcassa in ferro dolce antimagnetica eccolo lì che bellino è molto bello sì carino quindi bene bene con questo ho chiuso vi salutiamo io il piccolino e ovviamente love 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 grazie Sibilla per questa tua partecipazione alla rubrica quando io odo una voce femminile mi rallegro sempre sono sempre diciamo internamente brillantemente soddisfatto ora detto questo è un altro esempio di una ragazza che ne abbiamo già avuti un paio almeno una ragazza che ama il vintage cioè tutti i orologi datati che hanno un senso di esistere perché anche quelli che non hanno un nome blasonato nel vintage hanno senso di esistere e questa è la fortuna del vintage che anche i orologi che non hanno un nome importante sul quadrante possono prendere una luce differente una vita propria nuova chiaramente poi quando noi andiamo al mercatini guardiamo sempre anche questo è un longin questo è uno zenith questo è un omega ecco allora li prendono già valore nella nostra mente maggiormente però ci possiamo togliere gli sfizi anche con quelli che poi sono scomparsi morti sconosciuti che altro non erano che i micro brand di adesso lo erano allora erano assemblatori come lo sono adesso cambia ben poco cambia ben poco complimenti tutti i orologi belli qual è quello che mi ha incuriosito il longin concast lì tutto in oro con il quadrante pipe a me piace tanto mi piace tanto mi è un po' ripresa un attimino la voglia vedendo questo video di mettere un nuovo pezzettino nella mia collezione di longin vintage probabilmente aspetterò un mercatino di quelli seri dai aspettiamo che ci sia una fiera qualcosa per andare a cercare un orologio come si deve un 30l mi manca un 30l ancora però io cerco un 30l che abbia un quadrante non come tutti i 30l che si vedono quelli sempre un 30l un pochino originale con un aspetto originale ma c'è tempo non c'è fretta gli orologi sono lì che aspettano di essere presi e piano piano li prenderemo tutti prossimo video ciao davide ciao sono simone ho 33 anni di ravenna ti ringrazio per avermi accompagnato in questi tre anni in cui ti seguo in questa bellissima passione ti faccio vedere il mio primo pezzo è un pezzo vintage del 1971 bellissimo seiko con bracciale e chicchi di riso tutto originale ovviamente i finali cominciano a essere un pochino laschi però ci sta fa parte del gioco si i finali laschi così ci sta perché sono i finali a maglie ripiegate vuoti però secondo me si può fare qualcosa per sistemarli intanto piegandoli nuovamente cercando di riportarli alla loro misura originaria e secondo luogo mettendo delle spring barre un pochino più cicciotte di diametro maggiore tecnicamente dicendo in qualche modo si riesce a migliorare quella situazione lì e la spesa è praticamente quasi zero volendo si può anche sistemare un pochino però ha il suo perché anche così d'altronde sono orologi vintage vanno apprezzati per come si presentano con le rughe chi è che non ha le rughe dopo un tot di anni e ce li hanno tutti quindi vanno apprezzate le rughe i lifting non ci piacciono tanto magari le tette rifatte sì ma i lifting magari no quelli no il dial è bellissimo lo indosso volentieri lo indosso volentieri anche la mia ragazza io un po' adesso del 17 ti farò vedere i miei orologi indossati in modo che anche gli amici del canale magari possano trarne beneficio il secondo sempre un Seiko 5 del 1975 con questo bellissimo dial graffiato argento che spettacolo che spettacolo di quadrante ragazzi guardatelo un po' così lavorato ora a dirla sembra certi gran Seiko di oggi sto esagerando chiaramente però guardalo lì con la pellicola sul fondo ve lo faccio vedere indossato la particolarità di questo orologio che ho scoperto solamente successivamente è che la data con questo movimento si regola spingendo la corona all'interno con una pressione piccola se si vuole cambiare il giorno del mese con una pressione più grande se si vuole cambiare il giorno della settimana successivamente 1994 questo è Eberhard un champion 5 che bello con questo quadrante nero grigio top plexiglass questa ghiera con i numeri dorati bracciale meraviglioso guarda come sta mamma mia che bello sto qua ragazzi lo trovo bellissimo e con una vestibilità meravigliosa questi crono piccoli mi piacciono davvero tanto è l'unico crono che ho in collezione non li amo particolarmente ma questo mi ha mi ha stregato successivamente diver gommati ho preso questo Seiko mini turtle dopo aver provato il turtle classico che sul mio polso non mi faceva impazzire ho puntato questo mini turtle trovato ad un prezzo davvero abbordabile ve lo faccio vedere esatto al polso ci piace cassa filante una portabilità pazzesca ho anche preso un cinturino della miltat successivamente ma sono troppo pesanti io trovo che questi diver siano freschi e da portare con più leggerezza ci sta meraviglioso sono scelte successivamente un altro diver sempre seguendo un po' le tue orme in realtà l'ho preso anche prima ma non me ne vanto giuro e vabbè questo citizen pro master lo conosci bene ormai il suo bracciale originale con i tempi di decompressione bellissimo d'estate poi con un po' di abbonizzatura è favoloso oris diver 65 acciaio bronzo bello una cassa e una portabilità strepitosi questo bracciale che rastrema mi fa sempre impazzire troppo bello su una clasp veramente piccolina la secce davvero fine è bellissimo bellissimo lo uso in qualsiasi situazione nel tempo dell'ossidatura l'ossidazione si è stabilizzata e lo apprezzo veramente tanto è bellissimo mi sono appassionato alla casa Tudor l'ho seguito l'ho provato e due anni fa l'ho preso a dicembre di due anni fa un Black Bay 58 bellissimo davvero portabile forse da 17 trovo che sia la misura perfetta ho provato anche il nuovo più piccolino ma non me lo vedo non me lo vedo non come non mi vedo quello più grande trovo che questa sia la misura corretta per me sono stato davvero felice di averlo preso ma come sai la scimmia non si ferma mai fare la pazzia e alla fine l'ho fatta un altro ho comprato anche quello blu a distanza di tempo ne sono davvero felice non mi sono pentito e assolutamente la coppiata di entrambi in collezione funziona davvero tanto chiaro se trovassi un bel submariner nero ad un prezzaccio probabilmente scambierai il tudor per quello almeno si differenzia un po' però attualmente sono davvero davvero felice rimanendo sulle accoppiate e sempre rimanendo a qualcosa che hai già fatto vedere sul tuo canale questo rado golden horse tutto lucido con bracciale chicchi di riso che spettacolo l'asp rigata che trovo meravigliosa e oltretutto molto fine al polso da 17 è una vestibilità pazzesca anche questa chiunque me lo vede al polso mi fa i complimenti insomma anche i non appassionati salta subito all'occhio oltretutto una cassa super filante bello 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 sempre appunto come dicevo per rimanere alle accoppiate ho affiancato a questo anche un rado golden horse vintage come vedi i tratti caratteristici ci sono stesso simbolo stessa scritta con lo stesso font l'ancorina in alto che bello la data rossa all'interno cambiano gli indici e cambia il quadrante lo trovo anche questo stupendo non so di che anno sia è un laminato come vedi fondello in acciaio questo cartier Santos misura media già i suoi segni di battaglia ma trovo che sia giusto così insomma va va indossato e va goduto con un bracciale meraviglioso e super ingegnerizzato meraviglioso un must di cartier che ho puntato per qualche anno e finalmente sono riuscito a prendere complimenti sia lo sgancio tra una maglia e l'altra rispetto all'altra viene fatto facendo una pressione su questo micropin invisibile che davvero denota un'ingegnerizzazione fantastica di cartier e non c'è bisogno di nessuno strumento bisogna fare pressione si sgancia e si attacca non lo sapevo idem per staccare il bracciale si preme questo pulsante spettacolo che scorre fa scorrere dalla sede il bracciale si mette si toglie facilmente fantastico anche perché per il prezzo che ha trovare delle chicche del genere insomma te lo fanno piacere ancora di più grazie mille Davide grazie a te spero di non avervi annoiato e una buona giornata a tutti buona giornata a te è collezione promossissima questa hai tanti begli orologi anche io abbastanza originali come scelta abbastanza due black bay perché due black bay uno blu e uno nero sì te sei contento quindi siamo contenti tutti va bene così però se tu avessi voluto per il colore scegliere un orologio blu e uno nero da abbinare come dici te l'abbigliamento mi prendevo anzi un altro modello ma giusto per poter spaziare in più parlo per me quello che a me piace presumo che piaccia anche agli altri è poter avere esperienza di toccare il maggior numero di orologi averli posseduti indossati capiti studiati letti e indossati quindi se te prendi due black bay e ti precludi con quella cifra spesa lì la possibilità di un altro orologio a fantasia qualsiasi da poter avere nella tua lista di esperienza vissuta diciamo così però ti hai fatto quella scelta lì e sei contento a me è piaciuto tanto quando hai detto se trovassi un submariner nero perché lì mi dai proprio quasi l'idea di vorrei ma non posso cioè capito allora ti prendevi subito il submariner nel senso hai preso due due tudor ce la fai non è che non ce la fai non è che non hai disponibilità economica perché due black bay più un altro un altro un altro lo prendevi il submariner no quindi dire così è un po' come sminuire il tudor no non mi è piaciuta comunque la collezione a parte il santos con i numeri romani che mi fanno venire i brividi scherzo bello anche quello promossa dai prossimo video ciao Davide sono Davide da Riccione un saluto ti volevo fare i complimenti per il tuo canale e per le tue per le tue perle di saggezza che sono linfa vitale per noi appassionati continua così va bene allora prima di partire ti faccio vedere l'orologio che sto indossando siamo a Riccione siamo al mare ciao chi lo conosci bene Longin Skin Diver equipaggiato con questo cinturino nato arancione che ti ho copiato spudorata ce l'ho anche io uguale uguale anzi il tuo però non è un nato visto che è uno Zulu bravo però l'effetto estetico insomma è molto simile arancione nero poi partiamo dalla collezione siamo al mare quindi i miei diver equipaggiati con cinturini abbastanza colorati Seiko Tartle con cinturino giallo Citizen Pro Master con cinturino verde Doxa Sub 200 quadrante arancione poi passiamo agli Everyday Watch Tissot PRX Powermatic 80 Hamilton questo è il non mi ricordo il nome oddio il Kaki il Kaki non so cosa però è carica carica manuale passiamo al Rado Golden Horse 1957 un altro orologio forse uno dei miei preferiti di bronzone Oris Big Crown Pointer Date tutto bronze full bronze mamma mia che bello poi passiamo al vintage eccoli un vintaggino Zenith del 1949 carica manuale a corona cassi in acciaio oversize scusa ma per essere del 1949 è veramente pulito il quadrante ma corona non c'è nessun marchio né niente non mi ricordo se nel 49 ma presumo di sì dovessero avere però un po' troppo pulito quel quadrante lì ristampato dai Omega questa è una cassa da 34 mm in oro questo è un automatico questo è del 1951 automatico con movimento a percussore o martelletto insomma bumper poi passiamo al eccolo lì Rolex Datejust questo siamo metà anni 2000 dovrebbe essere un 2004 un 2005 se non ricordo male ghierino robianco quadrante argente con numeri romani so che a te non ti fanno impazzire però in questa configurazione a me piace molto molto poi passiamo ai due GMT che ho in collezione questo è uno degli ultimi arrivati è il nuovo seiko presage GMT è un orologio che per quello che costa in questo momento mi piace tanto bello sì sì al polso fa la sua porca figura come si suol dire e poi l'ultimo è il GMT Rolex GMT Master 2 questa è una referenza del 2011 acquistato nuovo quando ancora i prezzi di listino erano abbastanza accessibili poi ti volevo far vedere l'ultimo orologio è l'unico orologio che ho avuto in diciamo in eredità è stato un lascito da parte di uno zio svizzero non so molto su questo orologio è un orologio che si vede poco sul canale l'ho visto veramente poco è un Oyer Silverstone è l'unico cronografo che ho in collezione onestamente non mi fa impazzire come orologio volevo ho letto qualche cosa che comunque quando è uscito doveva sostituire il monaco con queste linee più più tondeggianti poi non ebbe il successo sperato e venne messo fuori produzione e così volevo chiederti appunto se sapevi dirmi qualche cosa su questo su questo orologio e non è non mi fa impazzire sarei quasi intenzionato a venderlo per comprare un altro un altro cronografo e anzi ti volevo anche chiedere un consiglio se ad oggi secondo te quali sono i tre cronografi sul mercato diciamo budget dai 4 ai 6 mila euro quali sono i top i top i tre nomi che mi puoi che mi puoi consigliare e appunto se sapevi dirmi qualche cosa anche su questo su questo oyer silverstone ok ti ho detto tutto anzi no quasi tutto c'è una persona che ti vuole salutare ciao davide cecchini io sono la figlia di davide mi chiamo virginia e ti faccio vedere il mio orologio è un flick flock che mi ha regalato mia nonna per per la vigilia di natale per me molto carino e farmi sapere te com'è ciao davide continua così e complimenti per il canale cosa ti facciamo un bel love un love e lei un rock e lei ti fa un rock ciao davide ciao virginia bellissimo il tuo flick flock mi piace perché poi c'è quel colore quel colore rosa tenue che ben si addice al polso esile di una fanciulla leggiadra quale tu sei brava virginia continuo così e poi piano piano ruberai tutti gli orologini nella scatola del papà glieli porti via e li indossi te perché te lo meriti perché sei simpatica perché sei rock ora detto questo io sul silverstone oyer non so proprio niente niente cioè il cane mi ha mangiato gli appunti e il ginocchio mi faceva contatto col gomito purtroppo non ho potuto studiare quindi non lo so tre cronografi e mi dici dai 4 e 6 mila che è proprio una un range di prezzo penso che siamo leggerissimamente sotto quello dei calibri di manifattura perché i cronografi costano mediamente di più di un solo tempo a parità di marchio e di modello il cronografo costa di più quindi per prendere tre cronografi come si deve io quali ti direi i tre cronografi che mi garbino a me lo speedmaster è il primero della zenith e il cronometer della brightling eccoli con questi tre qua te la caveresti ora quindi io sotto lì dai 4 e 6 io andrei sull'usato a quel punto lì secondo polso se qualcuno di questi ci viene sarà dura però ci siamo quasi uno di questi tre se no di nuovi da 4 a 6 io sinceramente non so perché poi hanno tutti a quel punto lì hanno tutti dei calibri derivati da 77,50 o di fornitura o a sandwich non me ne viene in mente nemmeno uno a quel punto lì se non ti interessa avere un calibro di manifattura esclusivo non so potresti andare su forse ci sono dei ci sono dei brightling che non sono il cronomat che costano un pochino meno o dei Tudor andare lì degli omega automatici con il calibro con un altro calibro non lo so dai non darmi no non è che devo sapere tutto io sempre tutto io chiediamo a Davide tanto ci risponde lui e no non ne so sempre io le cose io i cronografi ho l'intramatic di Hamilton che è derivato da 77,50 lo speedmaster e non ne ho altri se devo prendere un cronografo voglio prendere lo zenith è il primero poi basta cioè non mi interessa avere tanti cronografi non mi interessa perché il monaco puoi prendere il monaco prendi il monaco se ti piace perché non mi interessa perché costano di più di solo tempo e alla fine della fiera non è che mi interessa avere tanti cronografi spessi così perché ad esempio l'intramatica della Hamilton è bello spesso la maggior parte dei cronografi in quella fascia di prezzo lì 2, 3, 4, 5 e sono tutti abbastanza spessini quindi una volta che ce n'hai uno per toglierti lo sfizio andare a prendere altri cronografi no cerco di prendere quelli un pochino più particolari speedmaster e zenith il primero basta una volta che ho questi due non vedo interesse per il momento poi ragazzi voi mi chiedete una cosa ora io rispondo così e poi in futuro faccio il contrario perché si cambia si cambia cambia l'idea cambia opinione cambia i gusti ti viene voglia di prendere qualcos'altro però per i cronografi arrangiati in attimi minuti prossimo video ciao Davide sono Stefano e questo è il mio re della collezione bello re tag un acqua racer meraviglioso è un 40,5 mm di diametro cassa quando l'ho cercato non sapevo esattamente che cosa volevo sapevo di volere un orologio di lusso il mio primo vero orologio e così studiando mi sono imbattuto anche nel tuo canale youtube la luce hai visto la luce e ho imparato tante cose e ho anche scelto questo meraviglioso Tagoyer bravo monta come vedi un cinturino di gomma non è originale ah no? la domanda è insomma se tu mi puoi consigliare dove trovare un cinturino di questo tipo possibilmente originale passiamo al secondo rollo scusa mi chiedi dove trovare un cinturino di questo tipo originale e dove lo trovi un cinturino originale nei negozi Tagoyer è logica non è che ci ho messo tanto a ragionarci sopra mi viene così spontaneo dirtelo cercano il catalogo di Tagoyer se hanno un cinturino in perebra in gomma come questo qua che ti devo dire? spoggio sempre del 2020 volevo qualche cosa per andare con leggerezza al mare ed ho scelto questo stupendo Seiko SKX acquistato a una cifra decente credo intorno ai 300 350 euro lo vedi montato con questo cinturino in gomma arancione sbarazzino ma l'infatuazione svanirà presto e tornerà con il suo gommato nero diciamo un orologio che mi dà sempre grande soddisfazione perché ha proprio un carattere una personalità straordinaria bellissimo ce l'ho anche io procediamo con il terzo acquisto consapevole per andare a correre per andare in palestra insomma si comincia ovviamente con le solite scuse qual è il motivo per poter comprare un altro orologio bello per l'utilizzo che deve avere ogni tanto se mi capita di dargli un colpo o lanciarlo per terra mi faccio una risata e non ci penso nel 2022 ho venduto un Hamilton khaki mechanical che usavo usavo utilizzare con sfruttatezza sotto la camicia al lavoro con un abito in favore di questo Seiko 5 ma quando me lo vedono al polso e dicono ah che bello orologio è un Rolex cosa che dice anche sempre mia moglie io impazzisco perché non sopporto questa cosa lui è un Seiko 5 però non viene capito e va bene lo capiamo noi appassionati resta il fatto che adesso ho bisogno di qualche cosa di diverso di un po' più serio sto cercando un daily watch da ufficio che possa anche funzionare in qualche occasione elegante ma ho un budget ridottissimo e insomma ho un problema sono veramente molto legato alla storia dei brand ho una cosa un brand importante storico Zenith Tudor magari Rolex oppure Omega oppure non so Seiko anche altrimenti non riesco non riesco davvero ad appassionarmi a scegliere un orologio quindi se hai un consiglio da darmi in questo senso è una malattia dalla quale si può guarire non credo ma un consiglio in che senso un everyday watch non lo so non ho mai dato il budget un marchio ce n'è una marea ce n'è una marea ti so Chemin de Tourelle Oris Big Crown può essere anche anche lo stesso da tutti i giorni cioè è una marea non ho mai detto un budget non ho mai detto cosa ti piace che consiglio ti posso dare ma a volte e questo è un po' il percorso consapevole ora andiamo invece al percorso inconsapevole cioè nel passato quando nel 2011 con il mio primo stipendio uno dei primi mi comprai il primo vero orologio ma non sapevo ancora nulla di orologeria mi piacevano i Breitling i Navi Timer e poi quando vedi questo Citizen Crono Pilot radiocontrollato da Francoforte radiocontrollato nonché in Broglione Broglione io lo chiamo Nerone ecco mi mi innamorai di questa cassa non lo metto più o quasi ma la sua funzione è quella di dominare gli altri amici fratellini orologi indicando loro qual è l'ora infatti io quando regolo gli altri mi baso su questo radiocontrollato è bravo ecco qua questo Poliot Mosco-Rome 1992 monta un 31-33 brutto eh e me l'ha dato mio padre gli fu regalato da un assessore regionale che a sua volta lo ebbe in regalo da un politico russo in quel periodo 92 si concludeva un po' la parabola sovietica alcuni accordi commerciali tra l'Italia e la Russia portarono un po' chiudo male malamente e qui scatterà il ciofeca alert con questo nautica regalatomi per la laurea nel 2007 è così strano e brutto che con il tempo mi sono affezionato meno male addirittura una complicazione GMT chiaramente è un quarton e pesa tantissimo è praticamente un mattone un bolognino e niente rimane lì così ti faccio vedere l'orologio di mia moglie glielo ho regalato io un Hamilton al quarzo quel quadrante di madre perla lei ci tiene molto che te lo faccia vedere e vabbè grazie infatti anche lei comincia ad ascoltarti vale perché la obbligo e poi per una chiusura un po' più decente ti mostro questo Zenith del 1974 che bello che mia madre usava ha usato poco nel 74 un calibro 26-71 è un automatico 25 mm per 28 di diametro cassa pensate 25 mia madre lo usava nel 74 ma poi se lo dimenticavo nel cassetto tant'è che quando io mi sono appassionato di orologi neanche mi disse nulla un giorno io ero vi stando in un cassetto ho trovato questa perla l'ho fatta subito revisionare l'anno scorso e niente adesso funziona benissimo me lo godo no non me lo godo perché è da donna è microscopico mia moglie non lo vuole mettere anche se forse adesso comincia a capire qualcosa ma le suocere le suocere e niente è un orologio che insomma un cimelio di famiglia che io non mi posso godere peccato peccato dai che mio padre non mi ha lasciato uno zen del 74 me l'ha lasciato mia mamma e vabbè e vabbè va così grazie Davide per tutti i tuoi video continua così love love e niente ma collezione decente abbastanza a parte l'ultimo nautica lì che non si può vedere che è proprio brutto 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 come dicevano Aldo Giovanni e Giacomo però per il resto gli orologi erano abbastanza interessanti ci siamo fatti ci siamo un pochino rifatti gli occhi prossimo video dai salve a tutti vi saluto qui un abbraccio dal Texas l'accento proprio texano voglio salutare anche a Davide scusa mi sbaglio perché qui si parla tanto spagnolo molto messicane molti del sud America va bene dai allora questo è un zodiac degli anni 60 carino strano con il suo bracciale originale sporco lavalo lavalo lavate dai ragazzi si può dare una lavatina poi ho comprato ho avuto l'opportunità di comprare Loris sveglierino bello questo qua simpatico tutto originale perfette condizioni pare di sì dai pare originale sì 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 poi questo Tudor Black Bay in bronzo bronzo eh sì non si vede bene il colore sì 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 con tutti i suoi documenti e così via questo qua è quello da 43 eh quello da 43 quello grosso questo Bulgari ma carino pensa un po' che bello sempre automatico simpatico sempre col suo bracciale eh col suo bracciale cinturino bracciale il cartier cartier automatic bello è un po' collegibile però la mecca mi piace tanto come si indossa è bellissimo guarda è certo fantastico fantastico passabile da e l'ultimo che ho comprato questo reverse è il quadra questo qua squadra cos'è bello cavolo questo qua jj l'écout reverso c'è poco da dire eh si squadra grazie per vedere il mio video un abbraccio a tutti alla prossima grazie un abbraccio a te amico texano dall'accento non texano eh però è stato sbrigativo tutti i begli orologi mi sono anche dimenticato di lanciare qualche top qua e là eh vabbè perché era abbastanza diciamo veloce con delle pause lunghe nelle quali ci si poteva infilare però era un attimo bello il jj recuto reverso è uno dei miei orologini da puntare però non questa versione qua squadra perché perché è quadrato lui dice anche il nome stesso è quadratino a me vedrai che poi prima o poi mi piaceranno anche quelli quadrati cioè nel senso da comprare perché mi piacciono mi piacciono ma non da da comprare da avere per adesso e mi piace il jj recuto quello il reverso classico quello che quando giri dietro c'è l'acciaio che è rettangolare la misura è 25x46 insomma ho già tutte le mie ideine sul jj recuto i tuoi orologi tutti belli tutti belli anche particolari sento a prendere un Cartier sei andato il Black Bay Bronze da 43 mm che insomma non si scherza poi non è il primo video che manda l'amico texano perché avete visto nello sfondo c'erano altri c'era anche un Brightring c'erano altri orologi mandò un video molto tempo fa che infatti l'operculare un attimino per l'accento per il discorso Texas no? d'altronde se uno si è se è emigrato negli Stati Uniti il suo accento continua a mantenerlo bravo bravo amico texano ti ringrazio per aver mandato il video aspettiamo la terza puntata per vedere come si dipana la tua passione direi di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua quindi non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio il più spesso possibile qui su YouTube Love non mi resta